Devozione dei quindici dolori segreti di Gesù durante la Passione. Le quindici torture segrete di nostro Signore Gesù Cristo sono state rivelate all'amante di Dio di nome Maria Maddalena dell'Ordine di Santa Chiara. Era una francescana che visse e morì e fu beatificata in Roma. Gesù esaudì il suo desiderio. Gesù desiderava tanto ardentemente conoscere qualcosa sulle torture segrete che egli subì la notte prima della sua morte in croce. Questa devozione è approvata e raccomandata da Sua Santità Clemente II. Papa del 1730 al 1740. Iniziamo. I giudei mi consideravano come l'uomo più disgraziato sulla terra. Ecco per cui legarono i miei piedi con una corda e mi trascinarono per le scale di pietra, giù in una sporca e nauseabonda cella. Mi spogliarono dai vestiti e punzero il mio corpo con spigli di ferro. Oh Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Mi attaccarono una corda intorno al corpo e mi trascinarono a terra da parte a parte. Oh Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Mi hanno attaccato a una trave di legno e in lei mi hanno lasciato sospeso fino a che sono scivolato e caduto a terra. Sopraffatto da questa tortura o pianto lacrime di sangue. Oh Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Mi hanno legato ad un palo e hanno traffitto il mio corpo con tutte le specie di armi. Mi hanno infiammato il corpo, mi hanno sparato pietre, bruciato con bracci, e lanterne. Oh Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Mi hanno attraversato con punteruoli e aghi strappando in diversi luoghi la pelle e la carne del mio corpo e delle mie vene. Oh Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Mi hanno legato a una colonna e hanno messo i miei piedi su una piastra metallica incandescente. Oh Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Mi incoronarono con una corona di ferro e mi coprirono con gli stracci più sporchi possibili. Oh Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Mi fecero sedere su una sedia ricoperta di chiodi affilati e appuntiti provocando profonde ferite sul mio corpo. Oh Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Cospassero le mie ferite con piombo liquido e resina e dopo questa tortura mi pressarono sulla sedia chiodata così i chiodi sprofandavano sempre più nella mia carne. Oh Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Per provocare vergogna ed afflizione misero aghi nei pori della mia barba, strappata via. Dopo mi legarono le mani dietro la schiena e mi guidarono fuori della prigione con botte e colpi. Oh Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Mi posero sopra una croce e mi appesero così duramente che non potevo quasi respirare. Oh Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Oh Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Mi hanno usato le parole, le espressioni più vergognose su di me. Mi hanno legato le mani dietro la schiena. Mi hanno portato fuori di prigione con molti colpi e molto spesso mi hanno colpito con le verghe. Signore, perdona a noi e all'umanità ciò che ti abbiamo fatto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo a nostri debitori. E non cintura in tendazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Gesù, Maria, vi amo, salvate. Anime, figlia mia, desidero che tu faccia conoscere ad ognuno queste quindici torture segreti, affinché ognuna di esse sia onorata. Ognuno che giornalmente mi offre con amore una di queste sofferenze e recita con fervore la seguente preghiera sarà ricompensato con la gloria eterna nel giorno del giudizio. Preghiera Mio Signore, mio Dio, è mia immutabile volontà onorarti in queste quindici torture segrete quando hai versato il tuo prezioso sangue, come numerosi sono i granelli di sabbia attorno ai mari, i granelli di cereali nei campi, gli steli d'erba nei prati, i frutti negli orti, le foglie sugli alberi, i fiori nei giardini, le stelle nel cielo, gli angeli nel paradiso, le creature sulla terra, così molte migliaia di volte possa tu essere glorificato, lodato ed onorato. O meritevolissimo d'amore, Signore Gesù Cristo, il tuo santissimo cuore, il tuo preziosissimo sangue, il tuo divino sacrificio per l'umanità, il santissimo sacramento dell'altare, la santissima Vergine Maria, i nuovi gloriosi cori di angeli e arcangeli e la beata valange dei santi. Da me stessa a tutti, ora e per sempre e per tutta l'eternità, tante volte desidero, mio benamato Gesù, ringraziarvi, servirvi, riparare tutti gli oltraggi che vi sono fatti e appartenere a corpo e anima. Voglio spesso pentirmi dei miei peccati e chiedervi, oh mio Dio, perdono e misericordia. Voglio anche offrire a Dio Padre i vostri meriti infiniti in riparazione delle mie mancanze, dei miei peccati e dei miei così meritati punizioni. Sono fermamente deciso a cambiare vita e vi chiedo che l'ora della mia morte mi senta felice e in pace. Voglio anche pregare per la liberazione delle povere anime del Purgatorio. Desidero rinnovare fedelmente questa lode di riparazione e amore in ogni ora del giorno e della notte, fino all'ultimo istante della mia vita. Vi chiedo, mio Buone Gesù, che ristabilite nel cielo questo mio sincero desiderio. Non permettete, oh Gesù, che sia distrutto dagli uomini e molto meno ancora dallo spirito del maligno. Amen.